E' Johnny Depp, picchiatore di mogli. Il grande attore Johnny Depp continua a perdere le sue cause contro la bella, bella, bella moglie Amber Heard. Ma si vede che di mogli ne ha avute altre il grande attore Johnny Depp perché il settimanale britannico, il tabloid britannico The Sun, lo aveva definito picchiatore di mogli. Per cui Johnny Depp non c'è stato ad essere definito picchiatore di mogli. Per cui il grande attore Johnny Depp si è rivolto a un legale e ha querelato il tabloid The Sun. Però il tribunale ha dato ragione al tabloid The Sun perché sembra appunto che questo grande attore Johnny Depp sia proprio un picchiatore di mogli. Allora a me risulta solo che Johnny Depp è un grande attore, cioè famoso a livello internazionale, però non ha nessuna conoscenza delle donne questo Johnny Depp. E avrebbe dovuto Johnny Depp, prima di sposarsi Johnny Depp, avrebbe dovuto leggere questa mia opera storico-mitologica. Per cui Johnny Depp, questo grande attore Johnny Depp, dopo che avesse letto questa mia opera storico-mitologica, non si sarebbe più sposato. E poi io mi chiedo, ma come? Un attore bello, bello e potente come Johnny Depp, per portarsi una donna a letto ha bisogno di sposarla? Ha bisogno di sposarla? Ma Johnny Depp, ma non le sapevi queste cose? Eh, ma come? Con tutte le possibilità che avevi tu, di portarti a letto tutte le donne che volevi, per fare queste cose ti sei sposato, ti sei. Ma non lo sai Johnny Depp che non ci si mette mai contro una donna? Non ci si mette mai contro una donna, mai, 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 mai. Chi si mette contro una donna le perde tutte le cause. Perché le donne hanno sempre ragione, c'hanno. E per questo che c'è questa mia opera storico-mitologica che spiega che cos'è il matrimonio monocamico patriarcale, capito? Le donne hanno sempre ragione, le donne vincono sempre in tribunale ed è giusto che sia così. Ah, Johnny Depp, Johnny Depp, che disgrazia che tu non abbia potuto conoscere questa mia opera prima di sposarti, soprattutto prima di sposarti di nuovo con la bella Amber Heard. Ma che peccato, che peccato, Johnny Depp, caro, quanti quattrigli devi tirare fuori adesso, sia per la tua moglie che per il tabloid The Sun. Ah, caro, caro, grande attore, a che cosa ti è servito diventare un attore internazionale se poi non hai potuto leggere questa opera storico-mitologica di Serafino Massoni? A te Johnny Depp, alla tua bella moglie Amber Heard e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni. Grazie. Grazie. Grazie.